Ciao a tutti! Quest'oggi vi mostrerò come fare un trampolino con gli slime block. Cominciamo con lo scavare una buca di 5 blocchi per 5, profonda 2. Mettiamo al centro un pistone appiccicoso rivolto verso l'alto e rivolto verso di esso mettiamo 4 ripetitori. Per poi cliccare su ognuno col tasto destro per 2 volte. Riempiamo gli spazi rimanenti con della redstone. E mettiamo tutti attorno dai blocchi di ossidiana. Questo tipo di blocco è necessario perché è uno dei pochi che non si incolla ai blocchi di slime. Successivamente mettiamo su ogni blocco di ossidiana una pedana a pressione di pietra. E per finire dei blocchi di slime al centro. In questo modo, quando saliremo su una delle pedane a pressione, dopo qualche attimo, il pistone alzerà tutti i blocchi di slime. Quindi, correndo verso questo trampolino da qualsiasi direzione, verremo lanciati in aria. Questo trampolino può risultare molto utile per raggiungere alcune piattaforme in alcuni luoghi che non possiamo raggiungere con dei normali salti. E con questo è tutto. Noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao a tutti!